Ciao, mi chiamo Saverio, ho 19 anni e faccio parte della Quinta C dell'Istituto Carlo Matteucci di Roma. Sono venuto a esporre alcuni dei lavori che io e i miei compagni abbiamo realizzato in classe grazie alla Fondazione Mondo Digitale, con il quale possiamo aiutare l'ambiente. Alcuni dei progetti che abbiamo realizzato si basano sull'analisi dell'ambiente e dei microclimi presenti nelle scuole o comunque negli ambienti di lavoro e chiusi. con l'analisi di magari la presenza di CO2 con un dispositivo per il rilevamento di CO2 e un rilevatore di polvere per eventualmente sentire le polvere che ci stanno nell'area. Questo non può sembrare molto all'inizio ma è alla base per la creazione di qualcosa che in futuro potrebbe aiutare molto l'ambiente.